Hola amigo! Esattamente un anno fa usciva il mio primissimo video. Hola, como estas? Era appena tornato dal Messico, dove mi sono sposato, e mi sono detto, dai, facciamolo. È per quello che dico sempre, hola amigo, all'inizio dei video, perché in Messico lo dicevo a tutti quelli che incontravo. Comunque, sono partito con l'idea di fare 15 video di fila, senza saltare un giorno, e vedere cosa sarebbe successo. Sono partito in sordina, cercando di non preoccuparmi del giudizio degli altri, perché sai, che cavolo è questo tipo che si chiama imparare a suonare la batteria con Corrado Bertonazzi, o suonarelabatteria.it, o quello che è, ma cosa vuole questo? Avevo strizza, perché chissà quante persone, musicisti, amici o conoscenti, ci saranno detti guarda, so sfigato, ma cosa vuole fare? I primi video facevano pochissimo, 200, 300 visualizzazioni. Poi, dopo un paio di mesi, ho fatto questo video su Ringo Starr. C'è ancora chi sostiene che Ringo Starr sia un blef, che è diventato quasi virale su Facebook, ad oggi ha 450.000 visualizzazioni, e molte più persone si sono avvicinate alla pagina, apprezzando il mio lavoro di condivisione quotidiano. A quel punto ho cominciato a crederci un po' di più, e mi sono convinto di non mollare assolutamente, dedicando ogni giorno tante energie e ore di preparazione a questo progetto, per offrire contenuti sempre più utili e interessanti. Usa la gaffa, questo è il tuo migliore amico, la gaffa! Ad aprile ho pubblicato un videocorso sull'accordatura della batteria, una vera e propria scuola online che oggi conta circa 500 iscritti, che continua a crescere, una grande soddisfazione. Non riesco più a produrre un video nuovo al giorno, perché mi arrivano tanti mail e messaggi a cui voglio rispondere, poi è da oltre tre mesi che sto lavorando intensamente a un nuovo videocorso per il 2018. Insomma, non sto facendo questo video per dirti quanto sono figo, anche perché raga, mica è successo niente di particolarmente grosso. Ma ti racconto questo per ringraziarti di cuore, perché se la mattina mi sveglio con questa energia è perché le persone come te apprezzano ciò che sto facendo e mi offrono continuamente spunti per trovare nuove idee, oltre che difendermi pubblicamente dalle critiche. Grazie! Quel poco che è successo per me è veramente importante. Quindi festeggio il primo compleanno di suonarelabatteria.it, del canale YouTube, della pagina Facebook e in più mi sono anche fatta un regalino. Eh sì, caro mio! Eccola qui, una bella Ludwig Zepset verde-green-sparkle con la cassa da 26. Quanto la volevo, quanto la volevo! E me la sono meritata, che cavolo! Vuoi sentire come suona? Grazie a tutti! Grazie a tutti!